Il pane degli altri a sette croste, testimonianza di Giuseppe Castellino, nato a Crava di Rocca De Baldi, frazione Scalagrano, classe 1916, contadino. A fare piazza a Fossano, i giorni di mercato, dove adesso c'è la piazza delle Corriere, c'erano sempre un'ottantina di servente e servitù che si offrivano. Noi bambini tenevamo un fuscello, un rametto sottile in mano, era il segnale che volevamo affittarci, come un distintivo per dire che eravamo liberi, disponibili. Anche a Magliano Alpi c'era il mercato, in maggio all'annunziata c'era la festa dei servitori che venivano anche dalla Langa. La fiera era di fronte alla chiesa e se usciva il padrone si partiva subito, non tornavamo nemmeno più a casa. Questi mercati c'erano fino a prima dell'ultima guerra, poi ci sono stati di nuovo, ci sono ancora oggi, ma solo per i meridionali, per i calabresi. Ancora due anni fa ne ho visti alcuni sul mercato di Fossano che volevano aggiustarsi. Devi sapere che il pane degli altri ha sette croste. Ah, caro Nuto, sette croste. Allora era duro, caro mio, a mangiarlo. La scuola? La scuola era sempre dopo. In primavera, come scappava la neve, mi aggiustavo, mi affittavo e restavo là fino a quando ritiravamo nella stalla le vacche. Il fino al 25 novembre, a Santa Caterina. Il fascismo? Non ricordo niente del fascismo. Noi pensavamo solo a lavorare. Mai visto un giornale? Ho poi capito tutto dopo. Nei tempi della guerra di Abissinia ero servitore, capivo che non andava bene, avevo paura che la guerra si allargasse. È da soldato che ho cominciato a capire di più. C'era la radio, ho cominciato a capire la voce del duce che diceva. Combattere senza discutere. Marcava già male. eravamo noi alla battuta, eravamo noi sul gioco. Capivamo che se la guerra si allargava, andavamo noi sotto. I 18 mesi da permanente li ho fatti da rassegnato, ma non malvolentieri. All'89% fa bene, apre la mente, ti fa più uomo, ti insegnano a essere sotto un freno, ti insegnano a vivere. Se sbagli, paghi. La disciplina, insomma. 18 mesi e poi a casa. Non guadagnavo a fare il soldato, ma era del pane che dovevo rendere, era un dovere che dovevo assolvere, un debito che dovevo pagare. C'era poco da fare. Ma poi è venuto lo spesso la guerra contro la Francia, la guerra contro la Grecia, la guerra contro la Russia. La guerra era diventata un mestiere e non andava più bene. Cercavano di rovinarti per sempre. Io ancora oggi non so dov'è la Russia. Sono rimasto prigioniero là. La Russia è qui nelle mie costole, è qui nella mia salute rovinata per sempre.